a livello individuale, hanno operato a livello individuale e mutui di fatto sono ripartiti tutti. A questo punto abbiamo reinvestito ancora una volta e abbiamo cercato di sensibilizzare la regione e il Presidente rispetto a questo problema. Quando abbiamo posto il problema l'assessore Mozzarelli, che è quello che in qualche modo è stato sempre l'alter ego in questo tipo di problema, ci ha detto che noi stavamo sostanzialmente emanando il campo parlaio perché in realtà il problema era già stato risolto, più o meno anche ieri in Assemblea non era chiaro questo fatto che i mutui sono ripartiti, però a questo punto siamo venuti qua per spiegarlo in maniera chiara e anche per dire che chiaramente vorremmo una soluzione e anche rapida di questo problema perché tra pochi giorni partirà anche la terza rata.